Ciao, sono Luca Pedrali, sono qui oggi in questa location fantastica per la seconda giornata di Piquan Shu, del maestro Vismara e sono felicissimo di essere qua perché lo trovo una bellissima esperienza. Io pratico anche altre discipline legate all'energia, al chi ha meditazioni, discipline dove si va a sentire l'energia e col Piquan Shu devo dire che è stata una rivelazione fantastica perché è una tecnica che aiuta tantissimo il riequilibrio dell'energia nel corpo, la consapevolezza e tanto altro che vale la pena di praticare perché è proprio una fantastica disciplina.